E' il solo mezzo. C'è che a Firenze 77 attraverso Roberto Setti, Alan, la comprensione è il solo mezzo che può appianare le relazioni reciproche. Taluni, mancando questa comprensione, si ritirano dal mondo per vivere in solitudine. Ma ritirarsi dal mondo non è che chiudersi alla comprensione di se stessi e degli altri. Il naturale volversi delle cose è lento. Esso è un passaggio da grado a grado. Affrettare questa naturale lentezza può far sorgere una reazione che, per la sua violenza, può abbattervi.